Benvenuti Alessandro Cane e questa volta, anche se c'è l'acquario qua, guardate questo acquario che spettacolare, siamo in questo posto incredibile, scusate ma c'è un americano che sta bestemmiando perché non sa cosa significa la parola, questo è l'Old Jack, questo è l'Old Jack che dista 8 km dalla mia catapecchia, però ne vale la pena visitarlo, Ehi, 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 it's not working anymore, come vedete è molto carino, qua era un posto che salvava la vita agli italiani e quelli da Pirelli e anche da Savio perché quando non volevano mangiare cose cinesi assurde, venivano qua, si facevano una patatina, un chicken pop e un whisky, Ho detto, l'inglese di Baggio e l'altra robaglia, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao